Ben ritrovate lo spazio dedicato agli appuntamenti. Partiamo questa sera ricordando per martedì 24 settembre il concerto del Coro dei Cosacchi del Dona Bergamo presso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Per l'apertura del nuovo ciclo di molti fedi sotto lo stesso cielo. Appuntamento alle ore 20.45, la prenotazione è obbligatoria. Continua Bergamo la serie di incontri dedicati al design. Mercoledì 25 settembre in Piazza Moroni alle ore 21 ci sarà un incontro con il designer Alessandro Mendini. Dalle ore 20.30 ci sarà la possibilità di visitare l'allestimento e la prenotazione consigliata. A Martinengo ricordiamo sempre per mercoledì 25 settembre il Festival Internazionale della Musica Antica. Sul palco il clavicembalista Enrico Baiano, appuntamento alla chiesa di Santa Maria incoronata alle ore 21, l'ingresso è libero. Ricordiamo inoltre l'incontro con il gruppo di cammino serale che mercoledì 25 settembre partirà come di consueto alle ore 20.45 dal parcheggio della chiesa di Santa Teresa di Lisieux per una camminata in compagnia per le vie delle città. La partecipazione è libera. Concludiamo con l'appuntamento Sweet Bergomense, giovedì 26 settembre alle ore 20.45 in Sala Galomozzi. L'evento ripercorrerà le musiche tratte dai capricci armonici per chitarra spagnola dell'abate Lodovico Antonio Roncalli. Grazie a tutti.